Questa edizione di PT Immagine Bimbo è un'edizione sempre più internazionale, ricca di tante novità. Il progetto dell'ESI Magazine nasce per raccontare una principessa moderna a passo con i tempi. Sono felicissima che a questa edizione di PT Immagine Bimbo Veronica e Virginia Bocelli sono venute a trovarci. La piccola Virginia indossa un abito della nostra collezione Capsule Butterfly Collection. La collaborazione con Elia Nichols nasce dal fatto che lei abita a Firenze e adora vestire la sua bambina Virginia con le creazioni lazy. Grazie. 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 Grazie.